Nei giorni scorsi si è verificato un episodio inusuale che ha dato però la dimostrazione che qua a Chioggia i commercianti abusivi e irregolari fanno quello che vogliono e si sentono al di sopra della legge. Non soddisfatte di posizionare le proprie bancarelle in modo tale che chi transita sul bagnasciuga è costretto a deviare il suo percorso dalla battigia, si sono messi a pescare lanciando una di quelle reti che si aprono in aria. L'addetto al salvamento della torretta lì vicino li ha avvertiti che non è possibile mettersi a pescare così sulla spiaggia ma gli irregolari hanno continuato costringendo l'addetto a chiamare le forze dell'ordine. È giunta quindi la capitaneria di porto e la polizia a bordo delle moto d'acqua facendo desistere i pescatori irregolari dal continuare a procacciarsi così il cibo. È sorprendente che ci sia chi prende le difese di chi pretende di agire in barba le leggi a cui tutto il resto della popolazione deve sottostare ed è ancora più sorprendente che per mettere all'agonia le forze dell'ordine che cercano di far rispettare le leggi italiane si faccia carico qualche figura politica che siede tra gli scanni del municipio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!